Allora eccoci qui per provare una partita. L'ora della partitella. E' l'ora della partitella. Una con Don Capucino. Perché hai scelto questo nick, Alecchio? Don Capucino è uno youtuber, insieme a un altro che è diventato il genere della musica e della suegge. E i canzoni vanno solo figo cazzo, solo figo cazzo, solo figo cazzo. Sono figo cazzo. E' scelto insomma di essere Don Capucino. Don Capucino. Molto bene. Molto bene. Qui già vediamo un'ottima combinazione. Qui già vediamo la luce. Scacco. Chi fa scacco senza scopo se ne prende prima o dopo, ma qui lo scopo c'è. Cacco al re. Orca miseria. Orca miseria. Scacco al re. E dopo? Arrocco. Orca miseria. C'è sì, orca miseria. Orca miseria. Orca miseria. Orca miseria. Orca miseria. Don Capucino. Ecco la mostra alla Don Capucino. Queste saranno le mostre alla Don Capucino. Oddio. Oddio. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Non da mangiare il pedone. Vai, 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 vai. Oddio. Oddio. Scacco. Oddio, oddio, oddio. 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 Adesso ci si distanca più il luce. Beh, dioredisse luce e luce fu. Dio sbagliato che andai. V much riuscante luce. Dio disse anche. Dio da buone e a poco fu. Cosa ti stendio? Curl Curl La Cung Dio disse Cung La Cung Cung Allora... Dio disse Cung e Cungufu Cungufu Ah! Dio disse Cung Ah! E questo sapevo! Dio disse Cung e Cungufu La Cungufu Cung, Cungufu Proprio Cungufu Eh, Cung Il Cungufu Io invece sapevo Dio disse Cung Congo E venne un negrone Cungufu E venne un nero E venne un nero Il Cungufu Il Cungufu Dio 18 cm Vai mo! Ma che puoi fare? Questa! Questa! La cantina è buia! Ah, ma la ciclata proprio! La cantina è buia! La cantina è buia! Il cavallo, il cavallo! Metticelo! 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 Vai mo! Col cavallo! Col cavallo! Col cavallo! Dai col pedone! Col pedone! Oggi ci stupiremo! La gesta soffia! Vai! 53 secondi! Eee! Aaaaa! Questa fa male! Dio disse Cung! Dio disse Cungufu! E Cungfu! E poi che succede? Per quello mi studiante! Ahahah! Bagnati il cavallo! Ho immaginato la torre di il diluto che non ci poteva andare! ha immaginato mannaggia di mangiare dio disse kung ma sii ah si è il tuo avversario, si è il tuo avversario, si è il tuo avversario, si è il tuo avversario dai con la torre, mangi un troppo la torre vai 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 ma forse un bilancio eeeh don cappuccino vince la manna dal cielo devo scrivere un po' kung game che devo scrivere? kung game adesso li prendiamo anche in giro, diamo un bel esempio ai bambini good game good game no no no, ti puoi scrivere? eh vabbè cosa non ti scrivere, ti puoi scrivere? eeeh complimenti, come ti dicevi? complimenti bravo bravo e coraggio, brave bravo good game adesso ti vogliamo un po' le stile dei santi questo va bene questo è il famoso coccorillo un coccorillo che sta assumendo le sembianze di una scimmia con un pedone il pedone perché non ti si muove? ma c'è un pedone dispettoso pedone dispettoso specie pedoni ciechi vai mo vai col kung fu vai mo si 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 tutto è giusto dai che mo ti mangio attenzione no ecco no io sto soffiando sulle canzelle questo è bene ha roccato ha roccato lungo ha roccato lungo no sopra ti sei fermata l'auto? no sto soffiando sulle canzelle oggi è il mio compleanno va bene io direi che va bene adesso c'era un'immagine con uno che sta aggiustando la macchina no? e c'è scritto stai soffiando sulle candele non hai capito niente e c'è scritto mi si è fermata l'auto e poi lui dice no tranquillo sto soffiando sulle candele perchè oggi è il mio compleanno secondo te è certo che mi sei fermata l'auto beh ma perchè ci stiamo inne il boteggo sul pattugli che mi sei fermata l'auto non vedi che a capire eh beh questi sono misteri sono misteri no misteri del kung fu ci sono due parti della gerenetta già all'andrea di pre questo gioco spumeggiante è un miraggio è un miraggio è un miraggio è un miraggio ragazzi è un miraggio ma occhi di gare ma quell'alfiere ha una vita breve ha fatto tipo ligero che fanno i globuli nostri prima di finire è un bello per d'arte questo biso vai no ma se te lo mangi dopo ti frega l'altro lo spingi il pedone mangiatelo qui o no? no li mangio con la fiera ah vabbè dai vediamo che fa vediamo che ha spinto vediamo che ha spinto però se vabbè bocca qua ah capito quindi è stato forte insomma cioè a me la sembra da vabbè adesso che mangia? prepariamoci al meglio ah lo inchiodiamo è incredibile ha perso un altro pedone incredibile 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 dio 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 incredibile incredibile beenzione a? ? do un capuccino cacco al re cacco al re attenzione al cavallo attenzione attenzione non c'è bravo 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 un cappuccino, sono un film un cazzo, 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 dai 48 secondi contro 45 secondi fai scacco, fai scacco, fai scacco, scacco con la torre, vai vai, vai, fai scacco con la torre, a dove? a me, 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 a un cappuccino sono figo il cazzo per me si spinge il peggio 17 secondi c'era della gente 14 secondi ogni mattina io mangio pasta con tonno vai con la torta oddio cavallo cavallo scaccomatto oddio non abbiamo tempo non abbiamo tempo però avete visto che don cappuccino picchia picchia per bene cazzo picchio picchio di brutto sono figo il cazzo sono figo il cazzo vabbè dai niente è finita così abbiamo da aggiungere qualcosa dalla regia niente la regia senza parole la regia senza parole tua mamma no io sto piccolando è un uomo allora ma una domanda ci è stata fatta adesso con noi non è Fabrizio ma se ti giocano la Pirc tu che fai? chi apertura rispondi? no la devi mettere meglio rifapuliamo ci ha chiamato Fabrizio e ci ha detto scusa Alessio ma se ti giocano la Pirc tu che apertura fai? una notte la ragazza è giurata da poi è ritorna per moglie in questo periodo anche in altri livelli si la parola che stava ho detto vip eh dip eh no che ci sono i i parolacce eh dai non ti possono dire i parolacce è un canale in Scusa, io sto indicando la banca e la nuova vita del posto. Da questi politici quante parolacce ci dicono nel linguaggio? Allora, avete visto la tribuna ovecchese? Che ha fatto? Educazione sessuale. Ah, bello, ho visto il video che mi hanno dato tutto. Ah, sì, bel filo. Io quando dico sto cazzo sto semplicemente indicando la banca e la nuova vita del posto. Guarda che il politico quando parla sto cazzo lo dice in maniera elegante. Però lo dice sempre. Vabbè, vabbè, te lo mentiste. Vogliamo finire i prossimi due minuti con tipo canzoncina. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Un cazzo, un cazzo. Un cazzo, un cazzo. Come tua zia. Abbiamo 45 secondi. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Ma Ravi Prabhat? È un mantra. È un mantra. Un mantra? Un mantra? Che significa? ma ci ha azzeccato va bene saluti saluti